Incontriamo Michele Mirabella, il professore della televisione italiana, professore tre lauree e tantissime passioni. Un nuovo libro che è veramente molto interessante e che si apre, bisogna dirla, ad un pubblico assolutamente eterogeneo. Sì, tanto professore della televisione italiana è un titolo che mi è stato dato in una sbrigativa intervista molto meno accurata di quanto fosse necessario. E io rifiuto questo titolo anche perché sarei alle prese con degli studenti un pochino riottosi, diciamo, un po' negligenti. Se mi dice la televisione italiana sarebbe comodo, considerando che non è solo quella di servizio pubblico, che tra l'altro avrebbe bisogno di molti professori in questo momento. Comunque, ecco, la domanda era, inverteva sul libro. E ho scritto questo libro sulle insistenze della casa editrice benevole, che io ringrazio, perché l'altra mia produzione letteraria è, diciamo, accademica, destinata agli studenti della facoltà di lettere, da ultimo, poi di sociologia, prima ancora di beni culturali, di varie università, che avevano bisogno di una manualistica in grado di soddisfare le loro necessità accademiche. Da ultimo mi è venuto in mente, sulle citazioni della Mondadori, e anche di un mio studente, poi assistente, perché si è laureato con me, e ho raccolto le divagazioni che spesso io, diciamo, diluivo nel corso della lezione per renderla meno noiosa, meno accademica, diciamo la verità, qualche volta noi siamo noiosi, noi professori. E allora ho raccolto queste spigolature sul mondo della classicità, che sono più affini al mio passatempo preferito, se possiamo chiamarlo così, è quello dello studio, che non ha la mia professione attuale. E allora è venuto fuori questo canta mio mouse con un titolo così beffardo.